Il grandissimo Claudio Garella che ha impedito alla Juventus di giungere ad un pareggio che sarebbe una beffa per il Verona ma ora c'è Elkier che supera Pioli, Elkier in area, Elkier in area, Rete! il Verona amici sportivi veronesi è la miglior squadra d'Italia Preben, Elkier, Larsen ha fatto davvero per tre, trentaseiesimo del secondo tempo soddisfazione indicibile, è la più grande partita del nostro Verona mai vista sulla faccia della terra amici sportivi veronesi, Preben, Elkier, Larsen è partito da metà campo ha infinocchiato Pioli e Scirea, se ne è andato tutto solo sulla faccia sinistra ha stretto verso il centro, ha fatto un gol più bello di quello di Haskell